salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video sono sempre io multicarine 10 e ora vi unboxerò che cosa anche se si vede dal titolo la tracola del napoli per la scuola media ok procediamo dove sono le forbici ma ecco abracadabra da dove è apparsa dal nulla ok un attimo ok apriamolo ehi ma si vuole aprire ecco faccio uno qua ehi ma si vuole aprire ok ok tiriamo fuori ecco la cartoccia io ci ho questa è la borsa ok procediamo un attimo raga qua via e lo tiriamo fuori e voilà la borsa del napoli tagliamo anche questo coso stronzo ok guardate che macello ecco la borsa del napoli è un'immensità stupenda vediamo che c'è dentro ok wow ci sono ma qua allora ci vanno scusate il mio buio qua dentro qua ci vanno i libri qua non lo so che ci vanno qua forse ho non lo so con i libri e il borsche diario no, allora poi i libri va bene il video sta terminando vediamo solo com'è dentro e muoviti troppo stretto per qualcosa bene ragazzi il video finisce qui votate come sempre commentate come sempre e votate dal vostro multicarmine 10 ah un avviso non vedo loro che arrivi settembre per aprire altre 6 bustine di pokemon nero e bianco bene è tutto dal vostro multicarmine 10 SSC Napoli ciao 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 ciao